Il problema dei parcheggi diventa per tutti i sindaci sempre più difficile da gestire, soprattutto a Brindisi quando arriva l'estate. Ad esempio, sulla Litoria Nord, l'amministrazione è costretta a reperire aree private da adibire a parcheggi temporanei a uso pubblico, mentre la questione viva tutto l'anno, particolarmente nel centro città. Lamento della tariffa, oggi allarma cittadini e titolare di piccoli esercizi commerciali e artigianali in questi giorni. Tanti hanno manifestato le proprie preoccupazioni a confartigianato perché ritengono che gli aumenti possano rappresentare un deterrente per raggiungere il centro e invogliare tanti concittadini e arrecarsi altrove. Confartigianato ha pensato alcune proposte da suggerire al sindaco Marchione e all'amministratore della Brindisi Multiservizi. La prima è quella di contenere il più possibile gli aumenti e di utilizzare di più i parcheggi delle scuole e dei quartieri periferici coinvolgendo maggiormente la STP oppure l'alternativa incentivando il trasporto privato di persone con il noleggio con conducente. Inoltre sarebbe utile autorizzare la destinazione di nuove aree private ad attività di parcheggio aumentando infine l'uso delle bici o semplicemente a rendere i marciapiedi e le strade a misura di pedone visto che a Brindisi si può transitare tranquillamente da un quartiere all'altro nel giro di pochi minuti. Si tratta di alcune semplici proposte, forse poco innovative e che non incideranno sulle casse della Multiservizi ma dalle quali si può avviare un confronto e dare inizio a un percorso di partecipazione con tutte le associazioni di categoria e che può risultare utile sia a chi amministra sia ai cittadini oltre che a tanti lavoratori. Confartigianato nei prossimi giorni ascolterà i suoi associati per elaborare dai suggerimenti che giungeranno indirettamente dagli operatori altre proposte da sottoporre al primo cittadino.